L'impianto Advance Easy Moving è stato progettato per permettervi di acquistare una caldaia biomassa liberandovi da quelli che sono i pensieri della sua gestione. Possiamo dire che una caldaia biomassa è come un bambino neonato, ossia necessita di nutrimento continuo e costante, ha sempre bisogno di mangiare e avere una caldaia biomassa è un po' la stessa cosa, bisogna continuare ad alimentarla, a dargli combustibile. Proprio per questo Advance, grazie al suo funzionamento, mantiene costantemente e continuamente alimentata la vostra caldaia. Non dobbiamo dimenticare inoltre che in questo momento ci troviamo nel periodo per stagionale, per cui sicuramente voi state acquistando la vostra scorta di combustibile per la stagione invernale e se posso darvi un consiglio, acquistate la quantità che vi serve senza problemi e senza pensare ai limiti di dove andrete a stoccare il vostro combustibile, se non avete spazio all'interno del vostro locale caldaia, perché anche qui Advance Easy Moving riesce a intervenire, perché siamo in grado di trasportare il combustibile fino a una distanza di 20 metri e fino a 5 metri di dislivello, per cui acquistate senza pensieri il vostro combustibile, stoccatelo dove preferite, che a portare al vostro locale caldaia ci penserà Advance. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!